Oggi sarà presentato il progetto definitivo della medicina nucleare? Assolutamente sì, noi ci eravamo visti in un momento meno simpatico che è stato il momento della chiusura della medicina nucleare e oggi presentiamo il progetto definitivo, quindi abbiamo mantenuto le promesse. Che cosa consiste questo progetto? Lo presenteremo dopo in conferenza, ci saranno i tecnici, la totale ristrutturazione dell'aria che era già adibita a medicina nucleare ma completamente stravolta secondo le norme previste dalla legge. Che cosa rappresenterà per il nostro ospedale, per la nostra ASP questo servizio così come è stato organizzato? Allora intanto l'innovazione perché viene finalmente all'interno, c'è la separazione totale tra l'aria fredda e l'aria calda. Quindi verrà fatto a norma, non avremo più i problemi che avevamo prima, i pazienti seguiranno un percorso ben preciso e anche la tecnologia sarà assolutamente adeguata. Dottore Masceri, dalle parole ai fatti. Siamo riusciti, dopo un lavoro interno molto intenso che abbiamo seguito costantemente per alcuni mesi, siamo riusciti a licenziare finalmente il progetto definitivo della nuova medicina nucleare. Quindi per l'azienda oggi è una giornata felice ed importante, per l'azienda e soprattutto per gli utenti. Una conferma che il lavoro che state mettendo in campo guarda molto a migliorare la qualità del servizio e anche perché questa struttura diventa sempre più busoletta. Il medicina nucleare è una parte del problema globale che riguarda in realtà la necessità di ammodernare tecnologicamente anche dal punto di vista infrastrutturale l'intero presidio ospedaliero. Mi preme sottolineare che è in corso un altro lavoro di messa a norma fondamentale che è quello del laboratorio analisi per il quale nei prossimi giorni daremo conto anche di alcune importantissime e rilevantissime novità che consentiranno di sbloccare anche quest'opera. Un progetto che dobbiamo anche aggiungere rappresenta una novità e un miglioramento del servizio per l'ospedale e per i pazienti. Ma quanto è costato questo progetto? Questo progetto è costato come lavori su una base d'asta che verrà fatta per la gara di 318 mila euro. Poi aggiungendoci tutte le spese che ci saranno sia tecniche, IVA e tutte queste cose arriviamo intorno ai 390 mila euro. Una spesa possibile per l'aspe di Crotone? Secondo me bisogna assolutamente farla e in ogni modo trovare questi fonti e si farà qualche sacrificio però è indispensabile per la popolazione di Crotone e del Crotonese.